Cosa fare quando lui ti cerca poco e non si ingerosisce? Questo anche per rispondere a Lidia che mi segue su YouTube. Allora, se lui ti cerca poco, però tu presumi che dal suo punto di vista sia fedele e di fatto gli basta vederti magari una volta alla settimana e non prendere impegni più stringenti, hai provato magari a mettere degli antagonisti maschili e non ha funzionato? Hai provato a sparire per un po' e non ha funzionato? Beh, intanto devi prendere atto del fatto che non è molto coinvolto con te. Questo è un dato di fatto. Può essere anche una sua modalità, diciamo così. Allora, in questi casi è molto probabile che lui viva le competizioni più con le donne che con i maschi. E quindi devi metterli in competizione con una donna. Quindi anziché il ragazzo che, come dire, che ti corteggia, devi trovarti un antagonista femminile che può essere una tua amica, reale o presunta, vedi tu se riesci a gestirla in qualche modo, molto trasgressiva, che ti porterà sulla cattiva strada, frequentando lei, diciamo così. E portandoti sulla cattiva strada, soprattutto se tu hai aspettato, magari lui ha aspettato a fare sesso con te, ti ha rispettato, eccetera, magari questa tua amica potrebbe portarti, magari a fare sesso con uomini anche, diciamo, in modo molto rapido, per magari concludere direttamente in serata. Allora potrebbe diventare sensibile e cercare di sottrarti all'amica trasgressiva, che diventerebbe la mamma cattiva. E tu diventi una sua proiezione, perché questo tipo di uomini ne hanno una parte femminile molto pronunciata, che tendono a proiettare nella persona con cui stanno. Quindi una sorta di dissociazione, se vogliamo. E quindi il suggerimento è quello di iniziare a introdurre questa antagonista femminile trasgressiva, che tu inizia a frequentare, puoi inventarti una storia, insomma in qualche modo, se riesci a metterne una vera e meglio, che, diciamo, ti porterà sulla cattiva strada. Lui allora si attiverà per cercare di sottrarti ad essa. Bene, per questo video è tutto, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale e seguitemi sul blog seduzionevip.com. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.